Avia, pochi magari si ricordavano, ma Avia Zanetti vice president ha un contratto che scade il 30 giugno, forse magari la gente non se lo ricordava, però qua c'è una grande notizia da dare. Nessuno aveva dubbio che questa partita la vincevi proprio così, a mani basse, però abbiamo questa grande notizia. Questo legame continua, a tempo indeterminato, direi intera vita, ringrazio la società per questa grande fiducia, sanno tutti quello che provo per questa maglia e come la difenderò, anche se adesso non scendo sul campo, anche fuori, e mi auguro di poter contribuire e trasmettere tutto quello che è stato per me la mia storia nell'Inter. In questi due anni tu hai studiato, con molto umiltà ti sei messo a disposizione, hai imparato e stai imparando, diciamo che ormai hai imparato un mestiere diverso da quello che hai fatto per tutta la vita, cioè quello del calciatore, quindi bisogna sottolineare come un gesto molto positivo quello che tu hai fatto, con l'umiltà di ricominciare praticamente da zero. Certo, c'è l'esperienza del calcio giocato, ma tutto quello che tu hai studiato e che hai fatto hai dovuto scoprirlo di giorno in giorno. Sì, anche perché questa è una cosa completamente diversa da quello che facevo prima. Uno deve essere preparato, per questo ho iniziato a studiare, perché magari tutti pensano che dopo 23 anni di carriera sono legato solo alla parte sportiva. Uno quando fa questo ruolo, nel quale vengo chiamato in causa anche per altri aspetti, altre aree da coprire, uno deve essere pronto, informato e deve studiare. Per questi due anni mi sono servito tantissimo, per la mia crescita e spero di continuare. Tu lo sapevi però. Tu lo sapevi perché tu hai fatto la maglietta con quattro forever, cioè per sempre, e quindi tu già lo sapevi. Adesso però bisogna togliere il quattro e mettere VP forever. La faremo, la faremo. Adesso insieme a Paula, che è quella che ha delle grandi idee, la faremo e dopo la vedrete. Io te lo dico a livello personale, ma penso di farmi portavoce di tutti quanti i tifosi, siamo molto contenti di questo annuncio che hai dato. Vi ringrazio, anch'io sono molto contento, molto felice soprattutto per continuare questo grande legame.